Mi piace innanzitutto l'argomento riguardo alla trasparenza del comune riguardo le spese e l'amministrazione, online tutte le spese riportate precise di tutti gli ambiti e poi ovviamente penso come un po' tutti dato che ora abbiamo subito un crollo del comune, da parte del comune, mi piacerebbe che tutte le promesse, almeno i lati positivi, riguardo a tutti quanti le strade, c'era un progetto di fare il lungomare, tipo il corso, ho visto i progetti insieme ad altre cose, mi sarebbe piaciuto che queste cose siano portate a termine.